E da oggi la pillola anti-covid è arrivata anche nelle farmacie della provincia di Foggia. Noi siamo con il presidente dell'ordine dei farmacisti di Capitanata, Alfonso Bevere. Dottor Bevere, con l'arrivo della pillola anti-covid possiamo dire che è la svolta al contrasto della pandemia? Allora io posso dire sicuramente che la pillola anti-covid disponibile in farmacia pur se non sarà la definitiva soluzione alla pandemia costituisce sicuramente una svolta, una svolta molto importante perché essa disponibile al pubblico da subito contribuirà grandemente alla soluzione di tanti problemi. La pillola che noi abbiamo a disposizione, che avremo a disposizione, si chiama Paxlovid. Questa è stata fino ad oggi testata nei centri covid ed è stata somministrata a diversi pazienti con ottimi risultati ed è abbastanza affidabile e sicura, tant'è che l'AIFA con un decreto che già da ieri è in vigore ne ha autorizzato l'utilizzo anche nelle farmacie. La cosa è un grosso passo, costituisce un grande passo avanti. Il medico di medicina generale potrà prescrivere sul ricettario comune per gli altri farmaci questo prodotto al cittadino e la cosa principale, la cosa più importante è che questo farmaco deve essere prescritto entro e non oltre i primi cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi e verrà prescritto soltanto ai maggiorenni, cioè superiore ai 18 anni e nei soggetti che rischiano un peggioramento della patologia. Quindi non a tutti ma in quei soggetti che o per fragilità, per patologie varie o per una predisposizione personale, individuale possono portare delle complicazioni della malattia. Chi deve prenderla questa pillola e come viene somministrata? Allora, innanzitutto i pazienti che hanno oltre i 18 anni e a quei pazienti a cui il medico prevede una possibilità di aggravamento della malattia e quindi onde evitare anche l'ospedalizzazione può essere curato a casa, il medico dovrà comunque stilare un piano terapeutico e ritirare il prodotto in farmacia. Si può assumere tranquillamente a domicilio, sono delle compresse, vanno prese tre compresse la mattina e tre compresse la sera. Ovviamente questo non significa che bisogna mettere da parte la vaccinazione. Assolutamente no. La vaccinazione costituisce ancora per il momento l'arma principale che abbiamo per combattere la diffusione della pandemia. Comunque staremo anche a vedere lo sviluppo dell'uso di questo farmaco perché chiaramente è ancora tutto in essere. Però abbiamo ottime speranze che dia una grossa mano alla soluzione. Dottor Bevere, com'è la situazione in provincia di Foggia? Nelle farmacie si fanno ancora i tamponi? Sì, sì, si fanno ancora i tamponi. Devo dire che l'attività nelle farmacie è stata di grande aiuto per il contenimento di questa pandemia, per uno screening di massa che ha dato i suoi frutti. Le farmacie hanno dato, mai come in questa occasione, la chiara dimostrazione che la loro diffusione sul territorio, la capillarietà della loro presenza nelle città, nei quartieri periferici, così anche come nei paesini più piccoli, è stata fondamentale per un grosso aiuto al sistema sanitario nazionale e quindi alla popolazione. L'attività di screening dei tamponi che continua ancora oggi, chiaramente è un po' diminuita rispetto ai primi tempi, però continuiamo ad operare in tal senso, sì. Ero vittima del gioco di azzardo e non lo sapevo. Avevo perso il lavoro, la famiglia e i miei amici. Non cercavo altro che una slot machine. Cominciai a comprare qualche grattevinci e il gioco, senza accorgermene, è diventato una vera e propria malattia. Ho fatto in poco tempo debiti per oltre 30.000 euro e sono stato segnalato tra i cattivi pagatori. Cominciai a giocare con i colleghi, facevo sistemi e poi sono entrata nel tunnel del gioco online. Con dieci rate di mutuo non pagate, rischiavo di perdere la casa. La Fondazione Bon Samaritano ha avviato percorsi di riabilitazione con l'ausilio di psicologi ed esperti ASL contro il gambling. Abbiamo ridato serenità e dignità a chi l'aveva persa col gioco.